Adesso ci spostiamo fuori dalla tua cantina. Quali sono i tuoi clienti sia privati che del settore? Il nostro mercato di riferimento è la ristorazione, specialmente la ristorazione locale. L'80% delle vendite le facciamo qui in Veneto. Potete trovare i nostri vini nei ristoranti tipici qui dei coliberici ma anche un po' di tutto il Triveneto, soprattutto da Venezia perché comunque il Thai è un vino molto versatile che va bene sia con la carne che con il pesce e un 20% di export specialmente qui in Europa.